Il 78 febbraio, Salvini, ma Roma non è la Roma ladruna? Ma Salvini è un razzista, i razzisti al sud non sono mai stati ben accetti. Buffone, 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 batteria! Inventa falsi nemici sui quali aizza le persone più ignoranti e più anche disperate e quindi pronte ad abboccare a qualsiasi amo. I suoi ami sono molto semplici diciamo così, però non portano da nessuna parte. Il 28 tutto in piazza contro Salvini perché Salvini come si dice a Napoli è una lotta e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede per l'estate della città. Ciao! 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 Ciao!